si può ottimizzare un impianto esistente ovvero agire in retrofit presso quegli impianti che non prevedevano ottimizzatori alla loro costruzione e che adesso magari avrebbero bisogno di essere ottimizzati bene questa è una domanda che abbastanza spesso mi viene fatta è una domanda alla quale sempre rispondo sì si possono ottimizzare gli impianti non c'è problema quindi caro cliente che ti trovi ad aver fatto un impianto nel 2010 2009 2011 quando ancora il mercato degli impianti ottimizzati con ottimizzatori non era un mercato così così grande come lo è oggi puoi anche tu trovare la maniera di sopperire alle perdite di produzione dovuta all'ombreggiamento del camino ad un albero che è cresciuto ad un edificio che è stato costruito tutte quelle ombre che a noi piace chiamare ombre dinamiche cioè quell'ombra che gira sull'impianto durante il giorno a girare del sole se c'è un'ombra fissa su una zona dell'impianto non c'è problema non metterci l'impianto fotovoltaico ma se hai necessità di costruire un impianto di adeguare un impianto di ottimizzare un impianto dove c'è un'ombra che ci porta via della produzione perché durante il giorno gira in base al girare del sole si possono si può oggi ottimizzare questo impianto è una manovra semplicissima solare ci fornisce la possibilità sia di ottimizzare l'impianto inserendo solo degli ottimizzatori in dopo quindi si va sopra il tetto si inseriscono in serie sui collegamenti dei moduli fotovoltaici gli ottimizzatori e si ottimizza l'impianto ancor meglio se vista la scadenza della garanzia dell'inverter montato inizialmente o per proprio fare un lavoro completo si possono inserire ottimizzatori normali sostituire l'inverter e si potrà agire sul monitoraggio di tutto l'impianto quindi avere un vero e proprio impianto ottimizzato con il suo sistema di monitoraggio che dialoga in internet con tutta la piattaforma solarege potrò controllare così modulo per modulo la produzione eventuali guasti e le maggiori efficienze che sicuramente andrò ad avere ottimizzando un impianto che oggi non è ottimizzato quindi se avete necessità di ottimizzare un impianto o solo inizialmente volete valutare l'opportunità di ottimizzarlo quindi volete valutarne i costi e i benefici rivolgetevi pure a soladria o accedete al nostro sito chiedeteci informazioni mediante il nostro sito www.soladria.it